Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Un incidente sconvolgente, come potete vedere nell'immagine, uno di quelli che non ha lasciato scampo ad una famiglia felice. La coppia aveva solo 23 anni e nell'impatto è deceduto anche il loro bimbo di soli due anni. Al momento è la stradale a indagare sulla dinamica del sinistro, al fine di ricostruire, nei minimi dettagli, quale sia stata la causa della tragedia. Al momento l'ipotesi più accreditata è che la vettura sia andata a scontrarsi autonomamente contro i guardrail, per poi travolgere altre due auto. Il padre della ragazza viaggiava a bordo di un'altra aut dietro la famiglia, mentre si stavano dirigendo in una struttura, per passare un fine settimana all'insegna del divertimento. Lui ha assistito a tutta la scena, impotente. L'uomo ha allertato i soccorsi ma era già troppo tardi per la figlia. Il sindaco del paesino dove vivevano ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali.